Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Ho conosciuto giovanissima il profumo della libertà, l'ansia per la verità storica e il rigetto per qualsiasi forma di sopruso o discriminazione, proprio militando nella destra democratica italiana. Una comunità di uomini e donne che ha sempre agito alla luce del sole e a pieno titolo nelle nostre istituzioni repubblicane, anche negli anni più bui della criminalizzazione e della violenza politica, quando nel nome dell'antifascismo militante ragazzi innocenti venivano uccisi a colpi di chiave inglese. Do il benvenuto a Rosy Bindi, già Presidente del Partito Democratico, già Ministro della Salute del Governo Prodi. Buonasera e bentornata Rosy. Allora questa foto me la tengo qui durante l'intervista con lei, per questo ricordo straordinario di Stefano Massini. Le è piaciuto il discorso di Giorgia Meloni? No, lo dico anche con dispiacere perché è la Presidente del Consiglio del nostro Paese, quindi avrei preferito che mi fosse piaciuto chiaramente. Tra l'altro la clip che avete mandato in onda prima di questa nostra chiacchierata contiene due aspetti, uno sicuramente condivisibile e apprezzabile, il rifiuto del fascismo, delle leggi razziali, un po' meno la lettura degli anni del terrorismo, durante i quali non sono stati ammazzati soltanto giovani in nome di un malinteso antifascismo. Sono stati ammazzati tanti giovani in nome proprio da militanti fascisti e lo stragismo fascista è stato un capitolo importante di quella stagione. L'antifascismo, dice lei, entra soltanto in questo caso evocato con la chiave inglese nei confronti dei ragazzi uccisi. Esattamente, cioè pensare che il periodo del terrorismo sia liquidabile. Lei dice che ricordiamo anche il terrorismo nero. Ricordiamo il terrorismo nero, non sarò certamente io a non ricordare il terrorismo rosso. Era accanto a Vittorio Bachelet. Però quelli sono stati gli anni delle stragi, sono stati gli anni nei quali sono stati, in nome della violenza, ammazzati giovani fascisti come giovani comunisti o appartenenti al terrorismo rosso. Però io le ho fatto questa domanda... È un revisionismo storico un po' preoccupante. Però le ho fatto questa domanda, è ovvio che lei sta dall'altra parte politicamente, però Giorgia Meloni è una donna, si è fatta da sola, è dotata di una forte passione politica, non è salita per cooptazione, ma perché ha lottato lei, diciamo, anche in un mondo maschile, arrivando fino ai vertici. E tanto da riscuotere, diciamo la verità, simpatie trasversali anche a sinistra per questo. Ma sicuramente. Io stessa apprezzo il cammino che Giorgia ha fatto. Ho sempre detto che le donne non devono affidarsi alle quote rosa, accettare la regola della competizione. Da questo punto di vista sicuramente la sua storia è una storia interessante. Non mi sembra di aver sentito tante simpatie da parte della sinistra, in maniera particolare da parte delle donne, che anzi hanno chiesto, la vogliono vedere alla prova nei confronti della politica delle donne, giustamente. Ma al di là di questo aspetto, che sicuramente le riconosco, e le riconosco anche perché io stesso credo non essere mai stata cooptata nella vita, e quindi so bene la fatica che si fa come donna in politica, ma a me quel discorso non è piaciuto, primo perché non ci ha detto come governerà l'Italia, ci ha detto come ha intenzione di trasformarla, e ha intenzione di trasformarla da donna di destra. In questo senso certo non ha fatto vero delle sue idee, però chi ha avuto in virtù di una legge elettorale maggioritaria, la vittoria alle elezioni con 11 milioni di voti in un paese di 60 milioni, lo deve governare. 11, completamente tutta la destra. Tutta la destra. 7 mi pare, fratelli d'Italia. Esattamente, non può avere la presunzione di trasformarlo, incominciando peraltro dalla carta costituzionale, incominciando ad annunciare con un certo... Però se hai numeri questa è la legge della democrazia. Allora, la modifica della carta costituzionale no, perché la carta costituzionale non è di chi vince le elezioni, è del popolo italiano. Ci sarà un referendum nel caso. Ci sarà un referendum. Sul presidenzialismo. E consiglierei maggiore prudenza, perché la faremo comunque. Il popolo italiano, alle riforme della Costituzione, che la destra e anche Renzi hanno voluto fare comunque, non ha portato... Diciamo la verità, si sente nel paese un po' il desiderio dell'uomo o della donna che decide, del leader forte, che insomma non rimane in qualche maniera impaludato nei vari passaggi. parlamentari. Questo desiderio c'è in Italia, diciamoci la verità. Sì, lo so che la democrazia rappresentativa è una democrazia faticosa, che richiede tempo, che richiede dialogo, confronto, rispetto del pluralismo. Questa idea che i governi che durano cinque anni, in virtù di regole, che magari rischiano di forzare la realtà, a me non è un entusiasma. E io credo che il nostro paese non abbia bisogno né della donna, né dell'uomo forte. ha bisogno di essere governato, in una situazione difficile, complessa, con uno Stato ed un governo che, al contrario di quello che ci ha detto Giorgia Meloni, non si dovrebbe limitare, e anzi dovrebbe ben guardarsi, da rispettare questa sorta... io ho sentito un discorso illiberale e liberista al tempo stesso, di uno Stato che si disinteressa di una situazione di grande difficoltà della vita del paese, perché non ho mai sentito parlare di disuguaglianze. La questione meridionale è stata liquidata in pochissime parole. Il tema dei beni pubblici importanti come la salute, come l'istruzione, come il lavoro, la lotta alla povertà, non ho sentito una parola convincente. Sulla salute io spero che abbia giudizio il virus. Conosce il Ministro della Salute che è nuovo? No, non lo conosco. Però quello che è stato detto sulla gestione del Covid mi ha molto preoccupato. Cambiata la linea. Anche qui si intercetta un desiderio del paese, quello di sentirsi più liberi dai vincoli. Veniamo al concetto di libertà. Non impederemo a nessuno che ha intenzione di prendere l'iniziativa. A qualcuno bisognerà regolarlo. È difficile fare la lotta alla mafia che in maniera anche un po' retorica ha annunciato alla fine del suo discorso, per esempio aumentando la quantità di contanti che si può utilizzare nel paese. Lei come la vede questa misura? Che ragione dà pratica? Perché Meloni si è infilata in questa questione attirandosi molte critiche? Non riesco a darmi una spiegazione. Perché io, una persona che va in giro con le tasche piene di banconote, non riesco a concepirla se quelle banconote le ha guadagnate in maniera onesta e le vuole spendere in maniera onesta. E se si vuole fare la lotta alla mafia oggi, non basta prendere le distanze da una mafia che è già stata sconfitta e che non c'è più. Bisogna prendere le distanze dalla mafia di oggi che sa proprio insinuarsi in quelle libertà non regolate che ricicla enormi capitali. Che ricicla il denaro, che fa le incontri tra l'impresa legale e l'impresa mafiosa. Senta, Bindi, però lei fa un ragionamento di forte opposizione alla Meloni e dice che la democrazia è un bene fragile che va tutelato. Allora, il primo bene di una democrazia parlamentare è l'opposizione. Giusto. E l'opposizione non c'è. Mi scusi se io in questo momento faccio questa analisi brutale, ma l'opposizione sembra più impegnata a litigare al suo interno, Conte contro il PD, Calenda contro il PD o contro Conte, che a guardare verso la Meloni. Beh, poi ieri abbiamo sentito in Senato un discorso contro il PD e non contro la Meloni da parte di Renzi, per esempio. Quindi, intanto le opposizioni sono due, non sono tre, sono due. La terza non c'è. Cioè, lei pensa che il terzo polo sia già un sostegno al governo? Sicuramente, non so Calenda. Da quello che ho ascoltato da Renzi ieri, sicuramente l'opposizione di Renzi a questo governo non c'è. C'è l'opposizione che in questo momento è divisa come è andata divisa le elezioni, ed esattamente questo è il motivo per cui noi ci dobbiamo interrogare. Ha vinto la destra o ha perso la sinistra in questo paese? Secondo lei? Secondo me ha perso la sinistra, perché la destra ha preso gli stessi voti dell'altra volta, la sinistra se avesse avuto la capacità di unirsi e di aprirsi ad un paese che ha una gran voglia di rappresentanza politica e che sta a casa e che non va a votare perché non la trova, e non la trova soprattutto a sinistra. Ma è stato conto a far cadere Draghi però? È stato conto a far cadere Draghi ed ha sbagliato, ed ha sbagliato il PD ad identificarsi col governo Draghi, perché mentre doveva sostenerlo lealmente avrebbe dovuto dire al paese qual era la sua visione vera, quella che se avesse vinto le elezioni e il modo con il quale se avesse vinto le elezioni avrebbe governato. E questo non c'è e si continua anche adesso. E adesso però ci sono loro, mi fate vedere, ci sono i candidati al prossimo congresso del PD che si sta aprendo, Enrico Letta è uscente, quindi non è candidato alla segreteria, c'è Stefano Bonaccini, c'è Dario Nardella, c'è Matteo Ricci, c'è Paola De Micheli, poi un giorno ci faranno vedere anche le loro fotografie, ma abbiamo chiaro il quadro, lei li conosce, eccoli qua. C'è già la corsa per la segreteria del PD. Ma infatti io ho detto che un congresso che si limita a scegliere il segretario è un accanimento terapeutico, e lo ripeto con congresso. Cioè lei per lo scioglimento del PD? No, io sono perché il PD sappia andare oltre se stesso e si metta a disposizione per costruire in Italia una nuova sinistra. Che vuol dire concretamente? Andare oltre se stesso vuol dire cambiare nome, cambiare dirigenti? Vuol dire capire che... Tanto... Io sono contenta che i 5 Stelle siano finalmente approdati a quello che chiamano il campo progressista. Mi insospettisce molto il fatto che non usino ancora la parola sinistra, che è ancora urticariente per loro, quindi già questo mi preoccupa. Però so che sarebbe una parte importante. Cioè lei oggi, le devo dire la verità, che ascoltando Giuseppe Conte al Senato si è avuto la sensazione che si senta in qualche maniera il leader in pectore della sinistra. Dal modo... Dalla modalità, lasciando perdere, poi sui contenuti si può discutere. Gli consiglierei di fare bene il capo dei 5 Stelle. La nuova sinistra alla quale io penso è una sinistra che sicuramente unisce le forze politiche in campo in questo momento, che dovrebbero imparare a dialogare tra di loro per fare l'opposizione e per costruire l'alternativa. Ma io penso soprattutto ad una sinistra che sa riconnettersi con questo Paese, non solo con le grandi difficoltà di questo Paese, che torna ad ascoltare e a dare l'impressione di una politica che si prende cura delle persone... Sono vent'anni che lo dicono e non lo fanno mai. E non lo fanno. E non lo fanno. E' un partito di governo ormai che è diventato una struttura del governo e anche del sistema di potere. E dovrebbero superarsi, perché in giro in questo Paese, lo vedremo anche il 5 alla manifestazione sulla pace, ecco, poi ci andrà. Certo, ci sono delle realtà che già interpretano il modo con il quale dovremmo rispondere alle nuove sfide. Perché io sento sempre discorsi molto chiari da parte della destra e vorrei sentire altrettanto chiari alternative... Ma si può fermare la guerra indebolendo il Paese aggredito? Perché fermare le armi all'Ucraina, smettere di dare le armi all'Ucraina, significa indebolire uno delle due parti, in particolare il Paese aggredito. La piattaforma del 5 è molto chiara. Chiama per nome l'aggressore, dice che bisogna stare dalla parte dell'aggredito, non usa parole contro il fatto che l'Ucraina è stata sostenuta e continua ad essere sostenuta anche dalle armi, chiede che si dia finalmente inizio con il cessare il fuoco ad una trattativa seria. Che si faccia di tutto, cioè la comunità internazionale faccia di tutto per far sedere le parti in contesa. Perché peggio della guerra non c'è niente per l'Ucraina. Chi pensa di fare il bene dell'Ucraina e di rafforzarla continuando questa guerra, non ha capito come sta andando il mondo. L'ultima domanda... E c'è ancora in ballo il nucleare, chiaramente. Si chiederà in quella manifestazione. in cui ci saranno sia Letta che Conte, non Calenda, che andrà a manifestare contro la Russia a Milano. Ma appunto, le opposizioni sono due, le opposizioni sono tre, sono due. Sono due. Lei vede già un ricongiungimento possibile tra il PD e i 5 Stelle, ma non vede un leader per il PD in questo momento. Ma non mi interessa, non mi interessa perché... Perché i leader si devono prendere lo spazio da soli, non possono aspettare l'ok delle correnti, o no? Ma a parte questo, ma soprattutto il PD deve decidere che cos'è, che cosa vuol fare, dove vuol andare, qual è la sua linea politica, qual è la sua visione di paese. Lei si aspetta un congresso di questo genere? Io, se non fanno così, ogni giorno i sondaggi varranno poco, ma come abbiamo visto non sono stati molto distanti da risultati. Ogni giorno scende. E ogni giorno scende perché continua ad essere eroso, da una parte e dall'altra. Ma un Papa straniero ci vorrebbe? Ma guardi, torno a ripeterle, per quanto i leader siano importanti, io continuo a pensare che nella tradizione politica alla quale io ho appartenuto, e alla quale sono molto affezionata naturalmente, sono le comunità politiche che esprimono i leader. Questa idea che i leader fanno le comunità politiche è falsa. E se il prossimo leader di questa sista fosse Rosi Bindi? Rosi Bindi ha voglia di tornare un po' in campo? Rosi Bindi è in campo nel senso che non sta mai ferma, nel senso che pensa, scrive, parla. Ma certo, se si aprisse un cantiere nel quale ci si interroga come oggi si danno le risposte da sinistra con una cultura di governo, ma senza svendere i valori e i principi della sinistra, le grandi sfide, quella ambientale, quella delle disuguaglianze, quella dell'immigrazione, quella della pace, certo che potrei fare la mia parte come penso di fare ogni giorno. Grazie a Rosi Bindi. Non mi interessano i congressi. Grazie per essere stata con noi. Grazie a lei. Grazie.